Musica Nella solenne corpice della prefettura di Lecce si è svolta la consueta cerimonia provinciale dedicata al giorno del ricordo, un momento fondamentale per mantenere viva la memoria di una delle più grandi tragedie del XX secolo, le foibe. L'importanza di tramandare questa pagina buia della storia è stata sottolineata soprattutto per nuove generazioni, affinché la consapevolezza di questo orrore non venga mai dimenticata. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose unite nel ricordare le migliaia di vittime delle foibe e gli esuli costretti a lasciare le proprie terre. Tra i momenti di trattenimento e riflessione, i giovani hanno avuto un ruolo di primo piano. Gli studenti di Lecceo Banzi, insieme a una rappresentanza della consulta scolastica provinciale, hanno contribuito con la loro presenza e partecipazione attiva. Il messaggio, e infatti i ragazzi interverranno anche con dei loro brani, con dei loro pezzi, anche musicali, servono proprio per ricordare ai giovani che la democrazia è bellissima, la libertà è fondamentale e i giovani devono farsi sempre scudo per evitare che la violenza, in ogni momento storico, possa prendere il sopravvento sulla democrazia. Grazie a tutti!